Ciao sono Michele, ho finito ora di registrare un tutorial con Steam su come far riapparire le vecchie abbo missioni. State pronti? A breve verrà postato il video sul canale YouTube. Ciao belli! Ciao a tutti, sono Alien, ho appena finito di registrare un tutorial con Steam su come far riapparire le vecchie missioni abbo, che a breve verrà pubblicato sul suo canale YouTube. State in occhio! Ciao! Valeria, ma tu le hai completate le missioni Freeze e Banzai? Sì, ho a livello 17, 18 e 19. Ok, probabilmente stai confondendo i traguardi Banzai e Freeze con le missioni. Analizziamo insieme onde evitare confusione. 1. Esistono i traguardi Banzai, giocatore e vincitore. 2. Esistono i traguardi Freeze, giocatore e vincitore. 3. Esistono i traguardi inerenti alle missioni, uno per il Banzai ed uno per il Freeze. E noi punteremo a far riapparire il parnello delle missioni, il cui scopo sarà appunto quello di poter permettere di completare questi due traguardi che, altrimenti, non sarebbe fattibile completare. Le missioni, infatti, erano state rimosse da hub qualche annetto fa, ma con questo trucchetto vi insegneremo come farle ricomparire. Eh, ma quindi, Simo, come faccio a far riapparire questo pannello missioni? Sono degli step molto semplici e che possono essere fatti solamente da versione desktop. Non si possono far comparire da smartphone. Sì, ma Simo, se io le attivassi da computer e poi loggo da smartphone, è possibile ugualmente? Avevo il tuo stesso dubbio. Purtroppo non è possibile. Per fare sia attivare il trucchetto che per completare queste missioni bisogna essere da computer. Quando dico che funziona solamente da desktop, intendo che non funziona sulla app ufficiale di Abbo, mentre, se si utilizza il browser Puffin, di cui lascio il mio video tutorial in descrizione, funziona perfettamente. Come si fa per far apparire questo pannello? Allora, si va nella home del client, quella dove appariva il calendario regali, da qui aprite il navigatore delle stanze, assicurandovi di avere visibile una qualsiasi stanza aperta nella quale poter entrare. Dopodiché, in basso a sinistra, notate una piccola freccetta verso sinistra, una specie di simbolo minore matematico? Bene, andiamo a premere questo simbolino. Noterete che scomparirà sia l'icona con la casetta, quella che serve per portarvi alla vostra base, sia appunto il navigatore stesso. A questo punto, entrate tramite il navigatore che avevate precedentemente lasciato aperto, in una qualsiasi stanza. Una volta entrati nella stanza, vedrete magicamente apparire, fra l'icona del navigatore e quella del catalogo, questo fantastico... Oddio, oddio, mi è spuntato un blocco notico e una spunta azzurra. È questo? Ah, la mia stessa reazione di quando ho scoperto questo piccolo bug. Fate conto che avevo persino rimosso il teletrasporto, che collegava la mia sala punti rapidi, che è in pratica il corridoio, con tanti collegamenti a tutti gli altri traguardi, ma lo sapete perché era la risposta del video precedente. E poi, insomma, mi è stato fatto notare che in realtà questi traguardi era possibile farli ricomparire, e così ho deciso di rimetterla. Notando che molti non sanno come farlo per farlo ricomparire, però appunto ho deciso di fare questo video. Ok, ma ora che li hai fatti ricomparire, mi dai anche una mano a farle, vero? Ehm, ok! Ok, dai, allora cominciamo a trovare un amico. Ok, anche se ti avviso che solamente le Freeze e Banzai ti daranno dei traguardi, e quindi dei relativi punti al tuo personaggio, però, valutando che le altre sono molto rapide da fare, facciamole. Per attivare una missione, intanto, bisogna premere su Vai in missione. A quel punto, sulla destra, vi apparirà Missione. Due punti. Nome Missione. E apparirà anche un'icona che vi darà indicazioni su ciò che dovete fare. Dato che il pannello Missioni non appare, ma queste missioni una volta attivate invece permarranno, là in alto a destra, ci sta che ad ogni login potreste lasciare lì l'ultima che non avevate ancora completato. A quel punto potete esservi scordati cosa dovevate fare, perché magari è passato del tempo, no? Quindi, boh, è passato un mese. A questo punto, che potremmo fare, Valeria? Ma possiamo rifare il procedimento per farlo riapparire? Sì, oppure, molto più semplicemente, potremmo premere su Servaiuto, che ci farà comparire un altro piccolo pannellino con la guida di questa specifica missione. Ok, ok, insomma, quindi cosa dobbiamo fare? Ho attivato il Trovo a un Amico. Allora, come noterai, ogni sezione ha un numero di missioni specifiche. Adesso sei a 0 su 6. Questo significa che devi fare la prima missione. Il titolo è Esplora le stanze degli altri abbo. Quindi è palese che dovremmo visitare delle stanze. Ecco qua, stanza visitata, missione completata. Anche la rima. E appare il pannello che dice Prossima missione. Per fare questa basta essere in una stanza con un altro abbino almeno e scrivere una parola. Ecco fatto. Per la successiva basta che mandi una richiesta di amicizia, per quella dopo basta inviare un rispetto. Insomma, avete capito il principio. Non serve che ve le stia a spiegare passo passo tutte quante. Ok, ma io so per quello per il look? Step 1. Cambi look, aggiungendo qualcosa al tuo look. Step 2. Aggiorni il tuo motto, ossia dove devi scrivere tipo Quinto anno prefetto grifondoro gv oppure picciotto sant'antonio. Step 3. Indossi un distintivo, apri l'inventario, lo metti e via. Ma sei flash, oh santo Dio! Me lo diceva sempre anche la mia ex, chissà che intendeva. Eh, carostina, a proposito. Quando si vociferava che il labirinto non fosse la cosa più lunga che hai, cosa si riferivano? Eh, il museo. Il museo ha oltre 200 stanze, perché cosa pensavi, Monella? Vediamo piuttosto adesso le missioni esplora l'hotel. Te le ricordi? Sì, credo. Erano quelle che andavi nella sala missioni e dovevi fare il doppio clic sul furno? Sì, esatto. Il link alla stanza è in descrizione, che ovviamente è mia, ma vi mostro anche come arrivarci tramite teletrasporti e dal navigatore stesso. Dal navigatore basta cercare punto stimpunto, partendo dalla mia sala punti principale si entra in questo teleporta, da qui arriviamo alla sala punti rapidi, oppure arrivate direttamente lì, insomma poco cambia. Che fa appunto, vi ricordo, da corridoio a tutte le altre sale, e da qui entriamo in questo teleporta, che come vedete ci sono anche sopra le vetrine delle icone. Nel mentre, Valeria, che vuoi dire al nostro pubblico? Di iscriversi al canale Discord, dove siamo ormai più di 200 membri, in cui ci sentiamo tutti i giorni, ci divertiamo tutti i giorni. Trovate il link in descrizione e ci trovate anche me. Tornando alla nostra missione, per il primo step bisogna trovare la sedia da bagnino, eccola qua. Poi basta fare un bagnetto nell'oceano, doppio clic sulla tavola da surf, che sicuramente non è la ragazza con la quale sto facendo videochiamata, e Quicksilver levati. Quicksilver, stai cercando di vendere il tuo Fastpass sargento agli utenti in modo svelto? Sottile questa, a differenza di Adara in questi giorni. In realtà comunque consiglio il Fastpass Gold, perché si parte da più avanti e soprattutto è a vita. Sì ragazzi, vi ricordo che i miei labirinti sono ancora aperti, attivi, che pago ancora, e che potrete comprare il Fastpass qualora voleste, nonostante sono bannato, sì. E in fondo, in descrizione, metterò anche una descrizione accurata di come fare queste tre categorie, missione per missione, qualora aveste dei dubbi. Ma quindi come le facciamo le missioni Freeze e Banzai? Il video è già troppo lungo, sono piuttosto complicate. Per quanto riguarda le missioni Freeze, il video è già online, con la nostra vecchia e cara Evangeline, ve la ricordate? Ora vi appare in alto a destra, e trovate il link anche in descrizione. Per quanto riguarda quelle Banzai, il video è sempre a descrizione, però è stato fatto tipo diretta, non montato a livello professionale, l'importante è che si capisca come fare. Ora però Valeria vi farà la domanda del giorno, ovviamente non andatevene appena finito perché annunceremo i vincitori del video precedente, quindi rispondete correttamente nei commenti per aggiudicarvi il premio di oggi. Scrivete la lettera della risposta seguita dal vostro nickname, come sempre. Vai Valeria! In quali di queste tre stanze riuscirò a completare tutte le missioni Freeze, Banzai ed Esplore in Hotel? A. Sala punti principali di Steen, B. Arena Freeze di Steen, o C. Sala missioni di Steen. Ragazzi non deludetemi perché se no ci rimango male, se non l'avete seguito bene. Ricordatevi di rispondere con la lettera il vostro nickname di Abbo e di lasciare un bel mi piace al video e di iscrivervi al canale. Vi lascio un attimo da soli con Steen che fa l'estrazione del vincitore del video precedente. Noi ci sentiamo dopo che vi faccio i saluti. Vi avevo chiesto da quale room corridoio di Steen si accede a tutte le altre sale punti, fra cui quella cura piante. La risposta era ovviamente D. Sala punti rapidi di Steen. Vediamo chi si aggiudica la vittoria. Sono Elfaba, Tania DJ, Andrea e Arredo Muoio. Contattatemi sui social per ricevere il premio. E eccoci per i saluti. Valeria, dove ti possono trovare i nostri telespettatori? Vi possono trovare sul server Discord, ovviamente, con il nome di Alion, oppure sul Bobba Hotel, dove faccio la moderatrice, con nickname Modalion. Bobba Hotel è il rete in cui Steen viene a giocare a poker dal momento che il suo Abbo è stato proibito. Ciao a tutti, a Bini, in particolare a Mr. Bellic, che pensa che io sia fake. Un bacio! Se il video ti è piaciuto, lascia un mi piace e condividilo sui social. Qua a sinistra trovate il mio ultimo video, correte a vederlo se ve lo siete perso. In alto a destra trovate il pulsante di iscrizione a questo canale. Infine, ecco qua i social sui quali potete seguirmi. Trovate il loro link qua sotto in descrizione. Grazie della visione! Grazie a tutti!